La rassegna si intitola Invisibili alla ribalta, di cosa tratta? Allora, Invisibili alla ribalta perché siamo partiti con il farci una domanda, quando diventi invisibile? E ci siamo risposti che spesso, molto spesso, accade che quando si è piccoli si è invisibili. Perciò il nostro desiderio è quello di raccontare attraverso questa stagione, che ci è stata data questa possibilità per il secondo anno di fila e noi siamo contentissimi, il nostro intento è quello di raccontare l'invisibilità ai bambini, quindi trovare dei linguaggi nuovi per avvicinarci sempre di più ai loro desideri e parlare di invisibilità da diversi punti di vista, quindi dal punto di vista ludico, dal punto di vista avvicinandoci alla scienza, alla storia e anche alla nostra città. Avrei inizio proprio questa sera, proprio in questo momento a breve, Sherlock Holmes, Finché Zucca non ci trasformi. Lui oggi è in scena, io sono alla regia e siamo contentissimi ovviamente di iniziare anche quest'anno la stagione. In che modo porterete in scena questa invisibile Larry Ball? Allora, come diceva Asia, noi cercheremo di farlo attraverso varie modalità. Oggi per esempio con Sherlock Holmes puntiamo molto sull'elemento ludico, sul gioco. Poi Sherlock Holmes, lo sappiamo tutti, essendo un detective un po' il mago dell'invisibilità che va a scovare quello che solitamente la gente non vede. Poi lo faremo attraverso il mito a Natale, poi continueremo attraverso anche la biografia, Conoceano Madre. Passeremo poi anche a uno spettacolo dedicato ai piccolissimi. Quest'anno vogliamo fare questo esperimento, ci prendiamo questo rischio divertendoci. Uno spettacolo dai 3 ai 5 anni, Scatoli, Maneggiare con cura. Poi andiamo avanti con la scienza, materia confessione di natomo instabile. E poi concluderemo, come diceva Asia, parlando anche della nostra città. Noi vogliamo parlare del concetto di invisibilità facendolo anche attraverso Foggia, quindi attraverso uno spettacolo itinerante che si muoverà di quartiere in quartiere.